Salve a tutti ragazzi, buona domenica e benvenuti a questa primissima puntata una delle top 5 Pokémon che vi ricordo saranno ogni domenica alle ore 11 puntuali qui sul mio canale, il canale di Rocket25 Bene, ma ora passiamo alle cose un pochino più importanti Come non iniziare una rubrica dei top 5 Pokémon con gli starter Pokémon Coloro che ci guidano e ci accompagnano dall'inizio in ogni singolo gioco che noi abbiamo giocato Quindi, direi di passare subito alla mia personalissima classifica Pokémon starter Bene, al quinto posto... Bulbasaur! Il Pokémon semi di prima generazione Questo Pokémon mi è sempre piaciuto molto, fin da quando ero piccolo E anche le sue evoluzioni sono veramente molto bene In particolare Venusaur è un Pokémon che adoro alla follia quasi Diciamo che, secondo il mio modesto parere Gli starter Dapper non potevano avere un caposibite migliore di Bulbasaur Quindi, ottimo lavoro, intendo Al quarto posto... Piplup! Il Pokémon pinguino di quarta generazione Devo dire che lui è l'unico starter delle generazioni recenti che apprezzo un pochino Insieme forse a Tartwig Nelle mie nerdate, diciamo, a Pokémon Platino e a Pokémon Diamante Ho quasi sempre iniziato con Piplup e poi con Empolion sinceramente ho detto veramente tutto Al terzo posto... Sin da qui! Il Pokémon Fuocotopo della gloriosa seconda generazione L'ho sempre apprezzato, Sin da qui, per la sua semplicità A differenza degli starter di fuoco e delle ultime generazioni E anche perché mantiene sempre solo il tipo fuoco Che per me è una cosa molto molto importante ragazzi Veramente un'opera d'arte questo Pokémon Al secondo posto... Squirtle, il Pokémon Tartagina di prima generazione Cioè, come si fa a non apprezzare questo Pokémon? Penso che... Penso che lo dovrino tutti e a me piace anche più di Charmander Ovviamente ragazzi Mi prendo la responsabilità di quello che dico E potete insultarmi nei commenti se questa cosa non vi è andata giù E... Come ultimo, in cima al podio troviamo invece Totodile Il Pokémon Mascellone di seconda generazione Su questo Pokémon, per me, c'è poco da dire È stato il mio primo Pokémon Quando ho giocato al mio primo gioco Pokémon Cristallo Me ne innamorò subito E anche oggi le cose non sono affatto cambiate Anzi, questo amore verso Totodile è sempre più forte Bene ragazzi Questo primo appuntamento con le Top 5 è davvero tutto Ora però tocca a voi Mi raccomando, nei commenti con la vostra personalissima Top 5 Degli Starter Pokémon Io vi invito, come sempre, a lasciare un mi piace E facciamo così Per questo video vediamo se riusciamo ad aggiungere i 10 mi piace Visto che non ho mai chiesto un obiettivo Vediamo se per questo primo episodio delle Top 5 Riusciamo ad aggiungere i 10 mi piace Quindi ragazzi, io vi saluto Vi auguro una buona domenica E... Bye! Bye!